Abbiamo in questi giorni incrementato notevolmente la nostra presenza sul territorio dando corso a dei servizi mirati di battugliamento che hanno avuto la finalità in qualche misura di dare maggiore percezione della sicurezza e al tempo stesso incrementare se possibile l'attività di contrasto per alcuni fenomeni delittuosi a maggiore incidenza e allarme sociale. In questi controlli, nel corso dei quali sono stati impiegati numerosi militari dell'arma dipendenti della compagnia di Riccione, sono stati tratti in arresto tre soggetti per tre diverse fattispecie di reato. Il primo, una donna, è stata tratta in arresto al cumine di un'attività perquisitiva effettuata presso la sua abitazione dove è stato trovato copioso, stupefacente nonché denaro contante compatibile con l'attività di spaccio e negli altri due casi invece è stato tratto in arresto un soggetto albanese che per ben due volte si era rintrodotto illecitalmente nel territorio nazionale dopo un decreto di espulsione e nell'ultimo caso invece è stato tratto in arresto un soggetto che si era reso latitante dall'agosto scorso dopo essere evaso dagli arresti domiciliari nel territorio di Riccione. Quest'ultimo è stato trovato al culmine di un servizio mirato, un'attività tradizionale di polizia giudiziaria che lo ha portato al rintraccio in una via del centro di Rimini dove era intento ad effettuare alcune compere all'interno di un supermercato.